raccogli e van questo programma contiene linguaggio volgare un po di sofferenza in scene che alcune persone potrebbero trovare offensive ai 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 ah si ci sono ancora o yes vediamo però se raccogli hai visto continua a farne accogli la cosa non me l'avete dato alla fine la cosa per dare fertilizzante e andiamo a prendere dei semi di nuovo no 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 solo per non ho bisogno di farti però era andiamo appena gli altri se vi facciamo un altro però prima vediamo questo certo tanto comunque dobbiamo andare a prima di poi scendere ancora andare a perdere altri semi per nian due scatole faccio via speciale 3 scatole torni andiamo in una zona e ci mette stiamo lì due ore aspettiamo gli costi hanno in kit state che mi vado a ricucire vestito le facciamo rendere così ci andiamo a fare il migliore equipo andiamo a prenderci tutti quanti alla fine serata un fucile di quelli super sniper con la miglior onda di questo cazzo senti com'è contento di poter sprecare i soldi si 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 droga puttane tutt'ala notte è una droga puttane meglio sempre abbondare che difficile vediamo sono morto no come sei morto si stanno combattendo con uno mio cisco perchè ti chiami K-Mex ti chiami? si ma non ci aspettavi alla vendita si era appena appena fuori la vendita no veramente ma dove? fuori dalla green fuori dalla safe si questo è brutto avendo noi un po' di ganja se ci fosse la chat se ci fosse la chat del server avrei cominciato a insultare la madre della famiglia mi sembra giusto siamo una mamma zocco non è fortuna eh ragazzi forza siamo in tre armati su su che lato eri? eh quello per salire da crisi si ma non avevo niente c'è sempre su una guilla e un lieve la pezzo è il resto sulla costa la tefe guarda no mamma mia non so se è più l'avvicinarsi della torre lì della safe o l'odore di pizza da questo è il posto più pericoloso e facciamo un po' di passaggi qua mezzo alle rocce come campioni che trovano tutta l'entrata chiusa di qua yeah la gb è andato dall'altra parte cazzo aiuto qui è tutto chiuso no no è aperto ok sono in 6 c'è il comitato di benvenenza c'è uno zombie ma ragà ragà si? guarda che hanno fatto un campo anche qui di marijuana dove? sono qua giù perché non muore? ah si no ma appena ti tocca muore lui ma non l'hanno fatto proprio fuori dalla safe ma dai figo eh guarda da dove sono entrato io e rubiamogli la rosa infatti c'è arber non ci trovo dove sei? è su qua fuori dalle mura no io sono dentro ah dentro sei sto rendendo quante persone ci sono dentro? cinquemila rubri vieni qua che dove sti ci porti? ah qua l'ho trovato hai visto? magari ho un'altra ancora vale ho venduto tutta la ganja vado a vedere la pizza arrivo finchia ce n'è un botto qua ragazzi eh ce n'è un botto eh ce n'è un botto c'è un botto ce n'è? eh vieni qui vieni qui vieni qui vieni qui eh aspetta sto raccogliendo qui quattro passi basta che fai quattro passi vabbè ma loro non mi spareranno perché penso no eh loro sanno che lì non è safe se no non potevano piantare no ma come fai a raccogliere se non sei qua? guarda quanta ce n'è uh l'ho buttata fuori minchia un bordello questo è un botto di culo minchia diventeremo i signori della droga chi l'avrebbe mai detto? su dei zino di figura no neanche io ok queste le ho ripulite eh guarda che è piena eh è piena eh un po' di posto ce l'ho ho capito io non ho il posto eh raccogli solo quello che c'ha fai harvest solo per quello che ci sta eh infatti un po' mi è cascata anche per terra prima maledissima eh andiamo dentro vi vendiamo e ritorniamo a fare l'accoglio ah per forza ragazzi è un botto di soldi no? eh sì che figli di troia che è successo? eh niente abbiamo trovato l'accampamento di un altro fuori proprio fuori dalla safe gli stiamo inculando tutta la maria la stiamo andando a vendere che si fa nah che si è proprio proletario si si proprio la grande o promo o a plata la 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 No esattamente no, veramente che io c'ho un botto di roba, se ero più vuoto, cazzo, ne potevo andare veramente su. No io invece ne ho veramente, sono già 2000 ai rotti, adesso vado lì a farne dell'altro. Vai a cambiare i soldi. Vai 49 da 100. Ho fatto... 5.000 rubli, mai ho avuto così tanti soldi. Aspetta che cambio 50. Adesso ci avrebbe la persistenza a sotterrare i soldi. Ah, io ho fatto 1050 comunque sia. Eh, hai visto. Ha la facciaccia loro, i bastardi. Saranno delle ghille di prima. Sì. Allora. Eh, sta la pigliano in culo. Eh, sta la pigliano in del culo. Andiamo a comprare un'altra roba? Andiamo a prendere i semi. Andiamo a prendere i semi. Andiamo a prendere i semi. Eh, però servono i semi, la pala. C'è a lui. Ah, io la pala ce l'ho. Eh, basta stare vicino a un torrente o uno stagno. Eh, basta stare vicino a un torrente o uno stagno. Andiamo a prendere i semi. Andiamo a prendere i semi. Dai. Dove è che li prendete? Galagrin. Però vi seguo che sto mangiando la pizza io. Andate voi. Vida Vitex. Prendetevi in braccio. Si, Galagrin. Andate voi metto qua. Non c'è la maschera. Veleno. Ok. Tutto dove? Allora, facciamo da là. E da dove? Da qua. Eh? 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 Da qui? Sì. Esatto. Perché mi sono fatto male? No, no. Sembra. Sono tutti? No. No. Ok. Eccolo. Andiamo? Via. Ok. Un po' così. E no, prima di andare via volevo dire ancora un'altra cosa. Eccolo! Eccolo! No. Devevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire LEGALIZZE! O un attimo. LEGALIZZOLE! Oh, un attimo. LEGALIZZE! LEGALIZZE! LEGALIZZE!